Un momento traumatico. Così Saturnino De Cecco ricorda gli istanti della rapina durata quasi 40 minuti di cui è stato vittima ieri sera intorno alle 21 insieme alla sua famiglia. Armati e con il volto coperto, i quattro banditi hanno preso di mira la villa di Montesilvano in cui vive il noto imprenditore della famiglia dell'omonimo pastificio abruzzese, di cui fino al 2020 era stato vicepresidente, salvo poi di mettersi pur rimanendo tra gli azionisti di riferimento della terza azienda al mondo, produttrice di pasta, con un fatturato di oltre 500 milioni di euro nel 2021. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ieri sera i malviventi avrebbero atteso che nell'abitazione di Montesilvano rincasassero la moglie e la figlia di Saturnino, una bimba piccola in età scolare. Minacciate e prese in ostaggio, le due donne sarebbero state fatte entrare in casa e poi chiuse in cucina, dove i due rapinatori le avrebbero sorvegliate, mentre gli altri due complici avrebbero costretto l'imprenditore, che già si trovava all'interno della villa, a farsi aprire la cassaforte e a farsi consegnare il contenuto. Gioielli, preziosi e orologi di pregio. Nel bottino, ancora da quantificare, ci sarebbe anche una pistola regolarmente detenuta da Saturnino De Cecco, attualmente a capo della Overfly, un'azienda attiva da oltre dieci anni, con sede a Pescara, che gestisce viaggi e trasferimenti con elicotteri privati. Infine, i quattro malviventi sarebbero fuggiti a bordo di un'auto di grossa cilindrata, risultata rubata, dove ad attenderli c'era un quinto complice. «Quando ti entrano in casa e ti sequestrano la famiglia è grave», racconta l'Ansa Saturnino De Cecco. A mettere in fuga i malviventi è stato l'allarme, scattato quando la situazione stava precipitando. «Avevano già preso tutto, ma volevano e chiedevano altro. Pensavano di trovare di più, ma io gli avevo dato qualsiasi cosa», racconta ancora Saturnino De Cecco, che ricorda come i malviventi fossero armati di coltello e minacciassero di avere pistole, che però non sono state viste. «Quando qualcosa non gli piaceva mi colpivano», aggiunge l'imprenditore, che riferisce di essere stato percosso al volto e di essere stato collaborativo e accondiscendente per salvaguardare la famiglia. Sulla rapina indagano i carabinieri della Compagnia di Montesilvano, al comando del capitano Roberto Lunardo, unitamente al nucleo investigativo del comando provinciale di Pescara, che stanno vagliando le immagini di videosorveglianza della villa e dei dintorni. L'abitazione, presa di mira, si trova in una zona collinare di Montesilvano, che i malviventi hanno presumibilmente studiato prima di mettere a segno la rapina, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per l'incolumità fisica della famiglia.